Siamo qui a Matera per testimoniare il nostro sdegno contro la direttiva del governo che impedisce alle amministrazioni locali di trascrivere gli atti di nascita dei figli e delle famiglie omogenitoriali. Non c'è una differenza tra i bambini, per noi i bambini sono tutti uguali e le famiglie devono essere tutte uguali. Sono in piazza stasera le associazioni materane LGBT, Agedo, Matera Rumore e Risvolta che sostengono fortemente i diritti delle persone LGBT. Queste tre associazioni sono confluite in Matera for Pride che è il gruppo promotore del Matera Pride 2023 che si terrà a Matera il 22 luglio ma che fino al 22 luglio sarà presente in città con una serie di eventi per sensibilizzare i cittadini materani e per avvicinare tutta la comunità a quello che sarà la parata del Pride di luglio. Sicuramente l'amministrazione è qui a testimoniare insieme alle associazioni quello che sta succedendo a livello nazionale e che quindi appoggerà a 360 gradi quelle che possono essere tutte le esigenze delle associazioni perché ovviamente ci rendiamo conto che questa è una reale difficoltà ed una reale problematica che va risolta non in questo modo ma sicuramente in modalità completamente differenti motivo per cui con le tre associazioni abbiamo già iniziato a interloquire nella scorsa settimana con i miei colleghi proprio per cercare di capire in che modo possiamo supportare le famiglie, i ragazzi, chi sta vivendo in questo preciso istante questo momento emblematico e quindi essere uniti a quelle che possono essere le loro esigenze.